Che cos'è l'ideologia gender? Una delle migliori introduzioni critiche a questo tema così controverso e insieme attuale si trova in un recente libro molto bello e direi anzi illuminante di Enrica Perrucchietti e Gianluca Marletta dal titolo Unisex, la creazione dell'uomo senza identità, edito da Ariane Editrice nel 2014. Cos'è nella sua essenza la ideologia gender? Essa per sua essenza è quell'ideologia in nome della quale non esisterebbero uomini e donne, maschi e femmine, ma al contrario queste due diverse sessualità sarebbero creazioni sociali e non naturali e quindi appunto non vi sarebbero per natura maschi e femmine, ma al contrario la divisione tra maschi e femmine sarebbe essenzialmente una divisione culturale e sociale, storica e dunque tale da non poter rivendicare alcun carattere di naturalità. Secondo questa ideologia, che è alleata con il nuovo ordine mondiale e con quello che io chiamo nei miei testi il capitalismo assoluto e totalitario, non vi sono maschi e femmine, ma vi sono al contrario atomi individuali unisex che possono liberamente scegliere di costruire la propria identità sessuale, appunto la propria identità gender. Secondo questa ideologia particolarmente in voga nel nostro tempo, non vi sarebbe l'essere umano come uomo e donna, ma al contrario l'essere umano sarebbe una sorta di essere ibrido, illimitatamente manipolabile, tutto cultura e niente natura, tutto storia e niente identità naturale. In questo modo abbiamo una sorta di ideologia che garantisce antropologicamente la forma più, diciamo così, confacente rispetto al capitalismo dominante che impone appunto che non vi siano uomini e donne, che non vi sia diversità ontologica tra uomini e donne, e la diversità tra uomo e donna è quella diversità in forza della quale sussiste l'identità del genere umano che si dà nella sua identità appunto tramite la distinzione uomo-donna. Secondo l'ideologia gender invece vi sono solo atomi individuali unisex che sono illimitatamente manipolabili e che possono scegliere culturalmente se essere uomini, donne, transgender, anche così via. Ora è evidente che, dal mio punto di vista almeno per natura, vi sono solo due sessi, quello maschile e quello femminile, e poi infiniti invece sono gli orientamenti sessuali, che è ben altra cosa, ma per natura appunto i sessi sono due, quello maschile e quello femminile. Ora l'ideologia gender, che è un'ideologia funzionale al capitalismo trionfante, che mira a distruggere ogni diversità e a imporre quell'ideologia del medesimo in forza della quale si vuole vedere ovunque sempre e solo la stessa cosa, cioè atomi di consumo senza identità culturale, senza lingua che non sia quella inglese, senza capacità di comunicare se non tramite la grammatica del cretinismo economico, come lo chiamava Gramsci. Ebbene, questa ideologia è pienamente coerente rispetto al nuovo ordine mondiale, che propaganda senza sosta un nuovo modello antropologico, producendo quella che, con la sintassi di Pasolini, potremmo a giusto titolo chiamare una mutazione antropologica, in forza della quale appunto non vi sono più maschi e femmine, ma atomi individuali unisex che tramite la loro scelta individuale scelgono appunto se essere maschi, femmine, transessuali e così via. Ora, questa ideologia è del tutto coerente con il nuovo ordine mondiale, soprattutto se si considera che esso ha come propria funzione espressiva principale la neutralizzazione della comunità, la neutralizzazione di tutto ciò che può essere naturalmente resistente al nuovo ordine mondiale stesso e soprattutto mira a imporre un modello di atomo individuale illimitatamente manipolabile portato sempre e solo allo scambio e al consumo. Ora, la nuova ideologia gender utilizza continuamente, in maniera compulsiva, ogni risorsa simbolica per neutralizzare, diffamare, silenziare chiunque non accetti l'ideologia gender in quanto tale, dove appunto non accettare l'ideologia gender in quanto tale significa, e nel mio caso ad esempio, riconoscere che per natura vi sono uomini e donne, femmine e maschi, fermo restando appunto che due sono i sessi e infiniti possono essere gli orientamenti sessuali che sta l'individuo naturalmente scegliere. L'ideologia gender invece mira esattamente a distruggere l'identità del genere, mira a distruggere la differenza uomini e donne e a imporre l'unico modello del consumatore unisex, in modo tale da imporre questa nuova categoria e da silenziare immediatamente chiunque ossi metterla in discussione tramite la multicomprensiva e abusatissima categoria di omofobia, laddove appunto l'omofobia viene oggi utilizzata come categoria non solo per condannare chi utilizzi violenza contro le differenze e in questo caso abbiamo un giusto uso della categoria di omofobia per accusare quanti utilizzano la violenza per non accettare l'altro, la diversità rispetto da sé. Ma la categoria di omofobia, in una sua variante più ampia, più potremmo dire moralmente connotata e ideologicamente condizionata, viene oggi altresì impiegata per mettere a tacere chiunque non accetti l'ideologia gender come unica ideologia possibile, ad esempio se uno oggi ritiene, fermo restando il rispetto per ogni tipo di differenza e di gusto sessuale, se oggi uno ritiene che per natura ci siano uomini e donne e che il genere umano esista tramite la riproduzione, tramite uomo e donna, viene perciò stesso accusato di essere portatore dell'ideologia omofobica, appunto di temere la differenza in quanto tale. Addirittura nelle scuole, è successo se non ricordo male a Venezia, sui registri non si può più segnalare il nome del padre e della madre, non si può più dire a scuola da parte dei bambini papà e mamma ma bisogna dire genitore 1 e genitore 2, rimuovendo appunto ideologicamente la differenza sessuale maschio e femmina e imponendo fin dalla più tenera età ai giovani italiani l'ideologia gender come ideologia indiscutibile che non può appunto essere messa, sottoposta a una libera discussione razionale. Da questo punto di vista emerge dal mio modestissimo, dalla mia modestissima prospettiva la portata ideologica di questa ideologia gender del tutto coerente con il nuovo ordine mondiale tale per cui chi è contro il nuovo ordine mondiale deve affrontare criticamente anche questa ideologia gender non già per scadere nelle forme volgari di omofobia, figuriamoci, ma per rivendicare il fatto che il genere umano si riproduce tramite la distinzione uomo e donna e che i sessi sono due per natura fermo restando che i gusti sessuali poi sono infiniti e sono legittimi a patto che siano fra persone che appunto libere e consenzienti in quanto tale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.